Cari soci, vi presentiamo le giornate della comunicazione del CAI, che esiteranno a Bologna il 29 e 30 settembre 2018. Due giorni dedicate ai temi della comunicazione interna del CAI. La nostra grande comunità necessita di forme snelle ed efficienti per comunicare al proprio interno e condividere i propri valori. Sarà possibile partecipare direttamente ai quattro tavoli di approfondimento e di confronto, sul CAI dei soci e della condivisione, le scuole e gli organi tecnici, le buone pratiche delle sezioni, una risorsa per tutti e infine la montagna e social, come avvicinare i giovani alla montagna del CAI. Sulle nostre piattaforme è ora possibile visionare l'evento ed iscriversi. Vi aspettiamo a Bologna il 29 e 30 settembre.